Benvenuto nei miei canali Buona Giornata è un segno maschile, fisso, di fuoco, governato da luminare, il sole. Geroglifico è la stilizzazione della coda del leone, rappresentata già nell'antico zodiaco egiziano. Nome deriva dal latino Leo, a sua volta derivato dal greco. Un'etimologia più antica riconduce il termine a un verbo, sempre greco, che significa staccare, ferire. Atto di forza, dunque, e affermazione della propria potenza. Cielo molto positivo per quanto concerne la vita pratica, la possibilità di avere riconoscimenti in ambito attivo, lavorativo. Nel settore dei sentimenti, invece, ci sarà da impegnarsi un po' di più. Mercurio e sole, la luna in serata, abitano infatti oggi il segno a voi ostile dello scorpione. Giornata nel complesso buona, almeno fino al pomeriggio, grazie al sestile della luna, e di venere, e al solito trigono di marte. I due amanti tra loro visticciano, ma questo non cambia le cose per voi. Spostamenti e contatti all'ordine del giorno, tutto si incentra sul lavoro, produttivo anche nel pomeriggio, nonostante il passaggio della bianca signora in quadratura. Amore ed eros. Dialogo sereno con il partner, se qualcosa vi disturba ve lo comunicate tranquillamente, e senza mai alzare la voce. Con le debite spiegazioni l'altro capisce qualcosa in più di voi, aggiungendo l'ennesima tessera al puzzle della vostra personalità. Qualche mugugno in famiglia, e come sempre a scatenare l'offensiva sono genitori e suoceri, che si fanno la guerra sopra le vostre teste. Che noia. È necessario avvicinarvi con dolcezza e delicatezza alla persona che avete accanto. Qualche malumore passeggero o umo decisamente lunatico, può essere l'effetto di attenzioni che non avete dato al vostro, o alla vostra, partner negli ultimi tempi. Rimediate con la vostra tipica generosità. Successi strepitosi si prevedono per i single della seconda decade, grazie ai favori di venere nella bilancia, magnificati da un fascino irresistibile. Lavoro e denaro. Trattative, contatti, firme. Ringraziate il vostro carisma se vi fate girare tutti attorno a un dito. Una sconfitta non sarebbe la fine del mondo, capita a tutti, ma voi non sapreste perdonarvela, perciò, vincete. Faticosamente, però, perché quando le stelle si mettono contro, anche un prode del vostro calibro è costretto a fermarsi un attimo, almeno per cambiare strategia.Un gruppo di pianeti benefici, per farvi avanzare in campo lavorativo, è a vostra disposizione. Dall'agile venere ospitata nell'amico segno della bilancia, al decisionista Marte nel serissimo Ariete. Cavalcate un'onda positiva, indubbiamente, e fate in modo di trovare soluzioni oggi a quel che sembrava irrisolvibile fino a poco tempo fa. La vostra mano ferma e nello stesso tempo gentile, avrà modo di dimostrare in ufficio quel che vale ed essere generalmente apprezzata da tutto l'entourage di cui fate parte. Benessere? Felici e contenti solo in movimento, ecco perché la quasi immobilità orzata di questo periodo vi infastidisce, giungendo ad appesantirvi. Bella forza, lavoro a casa e tranquilla anche la serata, l'unica ginnastica che fate, è quella delle mascelle che divorano piattoni. Ma vi pare il caso? Grazie per aver guardato e visto in altri video, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti in modo da avere la motivazione per realizzare video.